Il sistema sbiancante DottoSmile si è portato subito ai vertici dei prodotti per sbiancamento professionale per un'importante innovazione, l'utilizzo del perossido di titanio, fotoattivatore bianco sensibile alla luce del laser a diodi, che ci permette di dare ottimi risultati senza coloranti cromofori. Il perossido di titanio è in grado di produrre effetto scattering con diffusione di una radiazione laser in superficie, permettendo di ridurre la concentrazione di perossido di idrogeno al 30% e limitando così l'aggressività del prodotto. Applichiamo la diga fotopoliberizzabile. Unendo il liquido alla polvere si forma una sorta di mousse, con una spatolina stendiamo il gel sui denti. Con il terminale grande area possiamo sbiancare dai 4 ai 6 denti contemporaneamente. Dopo la prima applicazione bisogna aspettare circa 10 minuti prima di rimuovere la mousse sbiancante. Lavaggio. Quindi rimuoviamo la diga fotopolimerizzata e controlliamo il risultato subito dopo lo sbiancamento. il valore di riferimento è D2, da valore D4 iniziale. Nei giorni a seguire lo sbiancamento tenderà ad andare un po' avanti, infatti vediamo che siamo passati ad A1 dopo due giorni.